9 dei 10 anziani assistiti nella casa di riposo Villa Luisa di Marineo in provincia di Palermo sono risultati positivi al covid-19, tra i contagiati anche un dipendente. Purtroppo si è verificato ciò che temevamo, dice il sindaco di Marineo Franco Ribaudo. Il virus una volta entrato nella Villa Luisa ha contagiato quasi tutti. Adesso dobbiamo sperare che la situazione non precipiti. Attualmente non ci sono sintomi allarmanti, ma trattandosi di anziani già affetti da patologie proprie, il rischio è alto. La situazione è circoscritta grazie all'intervento del sindaco che quando ha avuto notizia di un caso sospetto ha blindato la casa di riposo. La segnalazione all'aspe è arrivata il 22 settembre e il risultato dei primi tamponi comunicato il 30. Un tempo troppo lungo che però non ha provocato pericoli in paese perché la struttura è stata messa in quarantena da subito. Il sindaco ha rivolto anche un appello alla cittadinanza chiedendo a tutti coloro che hanno avuto contatti con la Villa dal 16 al 21 settembre di verificare le proprie condizioni e magari di effettuare un siero o un tampone per maggiore sicurezza.